Neki Giussino il disturbatore televisione www.nekigiussino.it sta andando in onda la quarta puntata del serale di Amici 2014, 13esima edizione e in questo momento Emma Marrone ha duettato con Paolo e Deborah entrambi della squadra bianca con la canzone Amami cosa ne pensate di questo duetto? scrivetelo nei commenti cliccate mi piace il video condividete il video ma soprattutto iscrivetevi al canale Salve